Dottoressa Banks Sono il colonnello J.T. Webber. Lei ha un'autorità in tutto il mondo nel campo delle traduzioni. Ho una cosa che deve tradurre per me. Questi sono... Non tutti sanno metabolizzare esperienze del genere. Ultima situazione stressante? Questa conta? Servono risposte quanto prima. Che cosa vogliono? Da dove vengono? Sei pronta? Io non mi... Sì, è tutto vero. Che succede ora? Ora arrivano. Oh mio Dio. Quante sono? Con questa dodici. Non siamo un mondo con un unico leader. È impossibile trattare solo con uno di noi. Come chiariamo le loro intenzioni? Io torno dentro. Non devo certo avvisarla che sta correndo un rischio. Ora sì che si sono presentati. Voglio tutti al lavoro qui. Mi sembra che gli esiti di questa storia alla fine dipendano da noi due. So cosa significa. Che cosa dice? Portare arma. Non mi serve un interprete per capire che vuol dire. Non sappiamo se capiscano la differenza che c'è fra arma e strumento. La Cina ha minacciato di distruggere il suo guscio. In ogni caso, la Francia e la Corea la seguiranno. Potrebbe diventare una guerra globale. Dobbiamo parlare con gli altri siti. E collaborare stavolta. Abbiamo 15 ore. Prima che vada tutto al diavolo. Stai sognando nella loro lingua. So perché sono venuti. Che accidenti sta facendo? Fidati di me. Fidati di me. Fidati di me. Fidati di me. Voglio che torni da me. Non sono molto bravo in questo. Non volevo rifare un tentativo. Vuoi cenare con me? Ok, va bene. Vengo a cena con te. Perché ho fame. Ma parliamo solamente. Devi essere molto più veloce, Gray. Che cosa vuoi, Anastasia? Nessuna regola. E niente più segreti. Toglitele. Toglitele. Vuoi restare lì a fissarmi? Sì. Il tuo ragazzo ha una cattiva reputazione. Tu vuoi essere mantenuta o avere rispetto? Pensi di essere la prima donna che cerca di salvarlo. Sì. 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 Se dovesse capitarti qualcosa, non potrai mai perdonarmelo. Ci sono addosso. Questi l'hanno presa sul personale. Dovevi solo creare una manovra diversiva, Roman. È stata la distruzione totale. Che cosa vuoi da me? Sono Roman Pierce, bello. È il mio mestiere. Fase 2. Fase 2? Che cos'è la fase 2? Bombe a volontà! Porca ma... Sai cosa mi piace di te, Dom? Che sei un vero fuorileggia. Ma la tua famiglia... Un lavoretto coi fiocchi. Quando torniamo alla base, birra per tutti. Da contro l'unica cosa che loro non sono in grado di gestire. T. Avresti mai pensato di tradire la tua famiglia come hai fatto oggi? Dominic Toretto ci ha tradito. Bene, bene. Ma guarda un po'. Non so perché lo sta facendo, ma quello non era Dom. Lei è la definizione stessa di terrorismo high-tech. E ora... Lavora con il vostro uomo. Ho trovato la mia squadra. Molto interessante. Vuoi giocare? È impossibile. Ed ecco perché avrai bisogno d'aiuto. Io ti pesterò come un tamburo ceroti. C'è voluto più tempo del previsto. Se volete catturare Dom, dovete lavorare insieme. Sorpresa. Mi sono innamorato. Non aspettavo altro. Abbiamo un carro armato. Muoviamoci. Ecco che arrivano. Non so se il vecchio Dom esiste ancora. Ma me ne frego. Io ti distruggo, Toretto. Giochiamo. Ma perché sparano a me? Che devono fargli a uno solo la borghina ragione. Sta zitto, te! Oh, merda! Serve un camion più grande! Dom! Vuoi voltare le spalle alla tua famiglia? Fammi uscire. Non posso. Fai, ti prego! Apri! Non posso. Dobbiamo contenere l'infezione. Apre questa mano del castro! Apre questa mano del castro! Apre questa mano del castro! They said he wandered very far, very far, over line. Ma ne è sicuro, comandante? Che vuoi dire? Che cazzo ci sarà là fuori? Che vuoi dire? Che vuoi dire? Musica d'assalto! È una specie di mostro! Aspetta, non è un mostro! È un uomo che indossa le spalline! Esiste un solo super cattivo con uno stile così antico! Fermo! Paltasar Brat! Voglio tutti gli agenti in mare immediatamente! Agenti grussi in avvicinamento! Sì! Aspetta, cosa? Come ci hai chiamati? Grussi? Sai, gru e lussi mescolati! Grussi? Mi piace! Ma non molto! Non mi piace! Scoppa! Questo non pensa lui! Sto pronto! Pronto per cosa? Ciao, gru! Prendi questo! Cosa? Oh, ragazze! Oh, ragazze! Rissa dance! Non finisce qui! Non finisce qui! Prendi questo questo勝ello è un giorno Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! to you! Ros 5jdare. . I carri armati nemici si fermano. Come mai? Perché sprecarli se possono colpirci dal cielo occhi chiusi? Qui ci sono 400.000 uomini. Sta tornando indietro. Torna indietro! Dove si va? Dunkirk! Io non ci torno. Non possiamo sottrarci, figliolo. Abbiamo un lavoro da fare. Moriremo là. No! Si riesce quasi a vederla da qui. Cosa? La nostra terra. 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 La nostra terra.